cise grill 6000 il raclette grill tradizionale da 600 watt per fondere il formaggio in poco tempo e cucinare allo stesso tempo in basso nella descrizione trovato il link per acquistarlo il raclette grill è dotato di piastra intercambiabile nel ripiano superiore dove cuocere carne verdure o scaldare il pane e di un pentolino nel livello inferiore dove poter affondere il formaggio in maniera tale da poterlo poi versare su qualsiasi piadanza si desideri nel vassoio grill inferiore viene cotto il nostro formaggio raclette raclette sta per formaggio svizzero ottenuto da latte vaccino salato e a pasta semi dura ottima per la fonditura tramite i suoi manici in legno è possibile nella rotazione reclinare il vassoio e inoltre è possibile regolare in altezza in base alla cottura desiderata il materiale antiaderente sulla parte superiore del grill è estraibile per una facile pulizia è dotato di due spatole in legno facile da sportare e da riporre con il raclette grill possiamo cuocere davvero di tutto e in contemporanea il formaggio e le verdure e o carne posizioniamo le verdure sul grill superiore e il formaggio raclette nella griglia inferiore accendiamo e con il termostato a nostro piacimento posizioniamo più vicino alla resistenza il vassoio del raclette attendiamo la cottura delle verdure girandole man mano che cuociono aggiungiamo altri prodotti visto che lo spazio è sufficiente in questo caso pane a fette ci siamo è quasi pronto ora possiamo preparare il nostro piatto con il formaggio caldo e filante posizionato il vassoio con le spatole facciamo scivolare il formaggio filante sulle fettine di pane infine adegiamo le verdure grigliate per contorno ora non vi resta che gustarvi il vostro raclette con qualsiasi prodotto a piacimento e buon appetito grazie a tutti 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 grazie a tutti